Musica Sera, pensavo di vedere di più ma invece non vedo nulla, quindi ecco vediamo se riesco a vedere i vostri volti perché quando Andrea Pauri mi ha invitato qui a farlo speech davanti a voi al TED parlando di lusso beh Andrea in realtà io non devo dire nulla, il lusso per me è questo, il lusso la bellezza, l'armonia è questo, essere qui questa sera di fronte a voi devo dirvi che da un po' di mesi a questa parte ho pensato a come poter iniziare questo speech ho detto colpi di scena, citazioni, come posso sciogliere il ghiaccio parlando di lusso a un TED e quindi inizierò con una curiosità abbastanza bizzarra perché secondo me qualcun altro di voi può condividere con me non dico proprio questa passione ma qualcosa di simile dovete sapere infatti che quando io sono sotto stress o provo ansia mi rifugio in quelli che sono documentari o letture sull'universo lo spazio-tempo, l'universo che si espande, i buchi neri che con il lusso non c'entrano nulla e non c'entrano nulla nemmeno con quello che so, con quello che ho studiato sono profondamente ignorante eppure è come se pensare all'enormità dell'universo mi facesse rilassare nella serie marina tranquilla ci sono cose più importanti, più gravi prima o poi passa tutto ma ora che abbiamo sciolto un attimino il ghiaccio e ci siamo conosciuti di più voglio parlare di qualcosa che forse abbiamo in comune quanti di voi, per esempio, alzatemi le manine anche se le vedo male hanno almeno una volta nella vita letto un libro o fatto un corso su qualcosa o qualcuno che ci prometteva di essere bravi, capaci ad influenzare l'altro i corsi, avete presente, come conquistare una donna in una settimana un uomo in due giorni, come convincere il tuo capo che sei più bravo di lui in una settimana quanti di voi hanno fatto almeno una volta nella vita un corso, una lettura del genere io sono la prima, sono la prima che nella mia vita ho iniziato giovane a 14 anni la camminata sui bracieri ardenti, tanto ce la fai, tanto va tutto bene il concetto di influenzare la capacità di coinvolgere l'altro mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che il lusso di per sé è proprio il mondo per eccellenza del coinvolgimento la capacità di influenzarci ma pensateci ora quanto è bello entrare all'interno di una boutique in un bel negozio, in uno showroom d'auto, dipende da quello che vi piace ed essere accolti, coccolati, luci perfette sembra un cosmo diverso, un universo parallelo di solito tendiamo al disordine invece all'interno di una boutique sembra tutto seduttivo veniamo coccolati e questo è bellissimo ci fa creare quasi un desiderio di possedere tutto volete comprarlo e siete disposti a investire anche di più rispetto a quello che potrebbe essere un prodotto quasi medesimo ma non all'interno di quella struttura e quindi partiamo dal presupposto che il lusso riesce ad influenzarci ma vi svelo un altro piccolo aneddoto dato che dobbiamo conoscerci io ho studiato lusso e ci lavoro anche ma vi dirò la verità probabilmente io non ho iniziato perché sul serio mi interessava il lusso io ho iniziato perché faceva bello dirlo all'esterno era bello quando qualcuno mi chiedeva cos'è che studia l'action management in che settore lavori? lusso è come se tutta la forza di un settore del genere così luccicante, così bello mi si vestisse adosso cioè io mi sentivo forte eppure credetemi ero l'ultima ruota del carro io di lusso non ne sapevo assolutamente nulla ma faceva figo dirlo e molti di voi probabilmente fanno delle cose compiono delle azioni solo perché è bello dirlo è bello mostrarlo a questo punto la domanda che più mi viene posta e che io faccio agli altri è sempre la stessa cos'è per voi effettivamente il lusso? se nel vostro immaginario ci sono quelli che sono vetture, gioielli, abiti costosi, viaggi attici, case bellissime sicuramente il lusso è anche questo è una parte è corretto però qualcuno prima di me come Abraham Maslow nel 1954 fece quella che è considerata una piramide la piramide dei bisogni quindi stiamo parlando di cinque tipologie di bisogni e tra la necessità umana di respirare, dormire, mangiare nei primi tre ma soprattutto all'apice proviamo l'autorealizzazione il senso di gratificazione di appartenenza sociale e quindi cosa significa? che il lusso forse non è tanto superficiale il lusso effettivamente non è solo acquistare un prodotto il lusso forse è anche un bisogno un bisogno di sentirsi a volte qualcun altro un lusso è qualcosa che ci dà sicurezza ci dà potere eppure qualcun altro diceva che il lusso non è altro che qualcosa di costoso difficile da trovare non è un bisogno ma un desiderio ed effettivamente qual è la differenza tra bisogno e desiderio? se voi ci fate caso ogni volta che voi andate ad acquistare a raggiungere quello che era un vostro grande obiettivo un vostro bisogno voi subito dopo cosa succede? avete finito? no però avete un altro desiderio e quindi ci sarà la nascita di un nuovo bisogno soddisfatto quello ci sarà un altro desiderio e noi saremo sempre coinvolti all'interno di un circolo che continua continua all'infinito e sapete però tornando al termine di lusso alla nostra borsetta cosa succede? che la prima volta che l'avete vista la desideravate tantissimo la volevate poi siete riuscite ad acquistare il prodotto il bene il servizio che tanto ambivate come se fosse una promessa di felicità una volta posseduta bello sfoggiamo sentiamo la sua energia la sua luce dopo un po' di giorni un po' di tempo la luce che emanava all'inizio inizia a svanire ed è così che ciò che inizialmente ambivamo così tanto e ci dava forza a distanza di tempo diventa banale monotona obsoleta questo qui che c'entra con il lusso c'entra il fatto che qui voglio fare una riflessione con voi non tanto sul termine non tanto su cos'è cosa non è perché secondo me il lusso fondamentalmente non esiste percezione ma oggi a distanza di anni ho capito che il lusso per me è consapevolezza qualcuno di voi ha mai associato questo termine a consapevolezza ma la consapevolezza di cosa? la consapevolezza significa sapere effettivamente il valore di qualcosa qualcosa o qualcuno che noi abbiamo è il nostro più grande lusso pensate ora se poteste tornare indietro nel tempo quanti di voi considererebbero lusso poter avere un abbraccio una carezza da qualcuno un vostro parente un amore una persona a voi cara quanto vorreste tornare indietro e quanto magari in passato non vi rendevate conto nemmeno di avere questo lusso a portata di mano quante cose noi facciamo nella quotidianità nella quale poi ci stanchiamo perché semplicemente diventano monotone ci hanno stancato le persone che sono accanto a noi non ci rendiamo più conto ma non ci rendiamo nemmeno conto di quello che noi quotidianamente facciamo perché la vita va veloce perché a volte non è abbastanza bello pubblicare la nostra normalità sui social no? quante volte capita? io in primis sono un caso cioè in primis so benissimo che pubblico sui social ci lavoro quella che è la mia parte di vita una parte la parte bella la parte scintillante la parte luminosa che gli altri si aspettano di vedere da me ok? ma che ne sapete che io il 90% delle volte non considero il lusso il potere di tornare a casa di stare con la mia famiglia e semplicemente riposare però non lo pubblico non lo pubblico perché non è abbastanza figo non è abbastanza quello che si aspettano le persone quindi la mia riflessione di oggi è con voi come possiamo quotidianamente essere noi gli autori del nostro lusso come possiamo renderla la nostra vita da banale a monotona a qualcosa di straordinario e se non c'è consapevolezza di chi siamo di chi vogliamo di tutto quello che abbiamo intorno dalle cose più semplici a quelle più complesse sarà difficile gustare il vero lusso perché non lo troverete all'esterno credetemi non sarà una casa in piazza Duomo a rendervi più fighi più lussuosi non sarà questo non sarà avere l'orologio non sarà avere la macchina sicuramente è uno status bene ci piace ma non è questo il mio spunto di oggi sul serio è quello di farvi riflettere riflettere con me perché in primis non mi sono mai fermata nella mia vita e sono l'opposto di quello che è lusso vengo da una famiglia molto umile che di lusso non aveva assolutamente nulla oggi ho la fortuna di lavorare con brand internazionali di essere qui con voi a parlare di una cosa tanto lontana da me e sapete cosa ho capito alla fine di tutto questo lavoro alla fine del dover lavorare 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 portare risultati mostrarsi agli altri che io il lusso me lo creo da sola e io me lo creo da sola tutti i giorni con le persone che ho intorno con le persone che scelgo come scelgo di vivere la mia vita con il sorriso con la gratificazione il mio invito quindi è questo come l'inizio non avevo una frase o una citazione importante da fare non avete visto slide e non ho nemmeno una frase di chiusura mi auguro solo che da questo da questi pochi minuti voi possiate fermarmi un attimo e iniziare a capire cos'è veramente il lusso per voi come potete rendere la vostra vita da normale a straordinaria essere grati essere fieri di quello che siete di quello che potete fare e ambire solo a quello che veramente vi rende felici perché l'unico lusso l'unico siete voi e lo create voi non c'è nessun altro nessun oggetto che potrà darvi questa sensazione buona serata grazie